Promosso dall'Associazione 358 e dall'Officina del Senatore PD Luciano D'Alfonso, l'evento dibattito, che oggi pomeriggio alle 17 si terrà presso l'Aula Emilio Alessandrini del Tribunale di Pescara, sarà incentrato sul tema della delicata fase delle indagini preliminari e degli accertamenti a favore della persona indagata che l'articolo 358 del Codice di Procedura Penale impone ai magistrati inquirenti. All'evento, che sarà moderato dal vice direttore del Tg1 Francesco Giorgino, parteciperà tra gli altri anche il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Davide Ermini. Io invito tutti a venire oggi alle 17 al Tribunale di Pescara, ci sarà anche il vertice del CSM Ermini, ci saranno anche le espressioni più elevate della magistratura abruzzese e nazionale. Ragioneremo su questo tema, le indagini preliminari, le paure di ogni cittadino e la soluzione scritta dall'articolo 358 del Codice di Procedura Penale. Io voglio richiamare il bisogno di consapevolezza di ogni soggetto che interviene, sia nella fase procedimentale che nella fase processuale per quanto riguarda il peso delle indagini preliminari, soprattutto in una stagione come questa dove per esempio internet produce memoria remota e molte volte solo per le indagini preliminari si viene lesi nei diritti riguardanti le attività economiche, le attività bancarie, in quello che si potrebbe anche riassumere nel rating personale o societario. Quindi io invoco un'attenzione potenziata da parte dell'avvocatura, da parte dello stesso cittadino che può cadere oggetto e soggetto di indagini preliminari, della magistratura competente, delle aliquote di polizia giudiziaria, facendo in modo che tutti abbiano le esatte dimensioni della qualificazione, della pesantezza, della impegnatività delle indagini preliminari, sulle quali è bene secondo me tematizzare e se serve anche fare innovazioni normative, tenendo a mente che poi la prova si forma nel processo quando compaiono l'avvocato della difesa, l'avvocato dell'accusa se si potesse ancora sostenere e il giudice terzo. Però prima, è una stagione che dura molto, le indagini preliminari non vanno prese sotto gamba, non vanno né minimalizzate, né mitizzate, né in un senso che sono rilevantissime e intoccabili, né nell'altro, tanto non serve, aspettiamo quando la prova e i documenti si stabiliscono e si stabilizzano. Io ritengo che ogni fase delle attività di accertamento della verità non debba essere sottovalutata, anche da parte dello stesso indagato, se per esempio si dedica, partecipando con l'avvocato, a ricostruire tutti gli elementi che possono essere utili per ricostruire la verità.